La tecnologia è un fattore essenziale per emergere e per garantirsi la sopravvivenza in un mercato legale sempre più affollato. Gli studi legali tra dieci anni saranno molto differenti da quelli che sono ora, è una previsione di uno studio effettuato in Inghilterra dalla Law Society, dove emerge, e non possiamo che concordare su questo, che Machine Learning, Chatbot, intelligenza artificiale. Tutti gli strumenti che attualmente stanno incominciando ad operare in tutti gli altri settori interverranno e saranno rilevanti anche nell'ambito della rivoluzione, per rivoluzionare la professione forense. Sarà essenziale e farà la differenza per gli studi legali la capacità di far propri questi strumenti.